per metterlo in difficoltà, perché poi i giocatori forti e i giocatori bravi devono cercare di mettere in difficoltà l'allenatore durante la settimana per cercarlo di non indurre in errori nelle varie scelte e credo che il Mista quest'anno disponga di tanti titolari. Attenzione Uccianna, il tiro, il primo gol anche del Turco, ha tenuto passo il pallone. Ha fatto vedere sul sito che ha un piedino niente male, perché visto come si è coordinato immediatamente su questa palla e d'incontro l'ha messa sul palo lungo, un bel gol davvero bravo Uccianna, perché vedi come è stato rapido a coordinarsi e a sferare questo diagonale.